E' possibile che non c'hai fame? Non sei contenta? Com'è che ti chiami? Benedetta Da chi? Mamma Io le piaccio Io c'ho paura Dai Per farle che a fare una settimana Vivono solo per farse belle Me lo dici che devo fare con te? Lasciami Che hai visto bene? Dov'hai? Ando vado, so che scudo da Borg Stront Voi? Voi? Grazie.